E' ora, Kevin? Sì. In un film che vi porterà dove nessun fan è mai stato. E' un evento assolutamente straordinario. Ma hai visto niente del genere? Penso che mi tremano ancora le gambe. Uno, due, tre! Jonas Brothers, The 3D Concert Experience. Prossimamente solo in Disney Digital 3D, nei migliori cinema. Sì. 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 Sì.